Carissimi, stiamo organizzando la seconda raccolta dei beni e fondi per l'Ucraina e di nuovo vi chiediamo l'aiuto. Purtroppo la guerra non è finita, c'è tanta gente in sofferenza, tanti profughi che sono scappati dal proprio paese e non possono tornare a casa, hanno bisogno del nostro aiuto. Come possiamo aiutare? La raccolta dei beni inizia questo sabato 14 maggio e durerà fino a lunedì, allora avete tre giorni, sia la mattina che il pomeriggio. Dove siamo? Siamo di nuovo qua in Corso Vittorio Emanuele 158 accanto all'Agenzia Immobiliare sotto la Scuola Altralingua. Cosa si può portare? Questa volta non raccogliamo i vestiti, potete portare invece il cibo a lunga durata, farmaci, prodotti di igiene personale, anche articoli scolastici per i bambini e i ragazzi. Questa volta avete anche la possibilità di fare un bonifico, fare delle donazioni tramite un bonifico, perché servono anche i soldi per il trasporto, ma anche i soldi per comprare buoni in spesa direttamente in centri profughi, quello che abbiamo fatto dopo la prima raccolta. Il bonifico è disponibile grazie a Covopro, Rita Montalbano, Daniela Campione, Paola Caracappa, ringraziamo tantissimo. Il bonifico è attivo fino al 22 maggio, allora avete due settimane per fare un bonifico con la causale ucraina. Abbiamo anche i nostri salvadanai, ringrazio tantissimo tutti, perché la prima raccolta è stata un successo, avete mostrato un cuore grande, tutta sciacca si è mobilizzata, siete stati meravigliosi, sono sicura che anche questa volta possiamo contare su di voi. Vi aspettiamo sabato. Grazie.